Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Indonesia, nell'isola di Java e questo è il famosissimo tempo di Birimbudu, un templio che è rimasto celato sotto le ceneri di un vulcano per intere generazioni e scomparso, non si sapeva nulla di questo tempo, si era persa la memoria, fino a che venne ritrovato casualmente ora è un patrimonio dell'UNESCO, è uno dei templi buddhisti più antichi al mondo esistenti, è una rarità ed è la testimonianza dell'influenza indiana in quest'isola, un'isola che nell'antichità era molto legata alle tradizioni indiane dove ha preso il buddismo e l'induismo, ora invece le religioni sono in maniera molto consistente rimpiazzate dalla religione musulmana. Eccoci qua, farò un breve giro nel tempio, se venite in Indonesia nell'isola di Java venite da queste parti e fate una bella visita, il posto è bellissimo, pieno di souvenir ci sono delle bancarelle stupende, vengono getti, manufatti, introvabili in nessun'altra parte molto belli, particolari e anche molto economiche